Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che presiede il Tavolo Nazionale Anticaporalato, sollecita le strutture regionali a attuare al più presto gli interventi finanziati dall'Unione Europea. Sono attività per la realizzazione e successiva gestione dei centri di accoglienza dei lavoratori stagionali, in Basilicata concentrati nel Metapontino e nell'Alto Bradono, ma anche il trasporto, ambito in cui i mercanti di braccia più di frequente impongono le proprie leggi. Poi ancora l'assistenza sociosanitaria e le liste di prenotazione concordate con i centri dell'impiego. Ci sono a disposizione più di 400.000 euro per mettere sui centri provvisori del Bradono e della fascia ionica. Altri finanziamenti europei sono destinati a recuperare terreni e aziende pubbliche non più produttive, come Pamafi di Maratea e Incoronata di Meffi. In giugno dovrebbe aprire il centro di Palazzo San Gervasio, che ha già 220 posti in linea con la normativa anticovid, mentre si lavora per allestire altre soluzioni per gli alloggi, come pure per il trasporto. Pietro Simonetti, del Tavolo Nazionale Anticaporalato, sollecita poi la definizione dell'accoglienza nel Metapontino, dove ci sono forti ritardi nonostante gli annosi problemi.